Ennesima brutta figura dell'amministrazione comunale, perché cosa è successo? Noi abbiamo chiesto ai revisori dei conti se quella delibera era legittima o meno, in quanto c'era un importo che si riferiva all'anno 2017 e invece era stato anticipato all'anno 2016 nella delibera. È chiaro che quella delibera è illegittima, i revisori dei conti lo hanno confermato, hanno detto che quella delibera dovrà essere riproposta perché non ha i piedi per camminare. Al di là degli aspetti politici e sostanziali legati alla collocazione del mercatino all'interno del sottorilato ferroviario, su cui abbiamo già detto tutto in maniera puntuale, oggi osserviamo che questa amministrazione conferma la sua incapacità amministrativa, cioè non riesce a fare atti amministrativi che abbiano i piedi per camminare, abbia atti amministrativi legittimi. Evidentemente consolida una tradizione oramai di improvvisazione che continua dall'inizio della Consigliatura e che penso si concluderà soltanto alla fine della Consigliatura quando questa amministrazione sarà mandata a casa dai cittadini di Pescara. I senegalesi ambulanti che esercino l'attività di ambulante devono essere collocati nei mercati rionali come avviene per tutti i cittadini pescaresi, per tutti quelli che affrontano ogni giorno l'attività di ambulante lo fanno con licenze, con autorizzazioni, con situazioni già ben definite. Oggi invece noi affidiamo all'Arci uno spazio che poi a sua volta verrà assegnato ai senegalesi con priorità. Ecco, questo è assolutamente illegittimo, lo abbiamo detto e lo continuiamo a sostenere.